Siamo orgogliosi che l'Espasco Puglera e l'Arci, non solo Valle d'Aosta, ma l'Arci nazionale ha preso sulla questione notabile una posizione chiara e netta di contrarietà all'opera e soprattutto, in quest'ultima fase, di forte richiesta di ridiscussione dell'opera nel merito. Come dicevo, questa è una serata che è nata in base a un confronto che è nato prima di tutto dalle persone, in particolare da me e da Fabio, del Partito Democratico, poi era da un po' che ci punze qua vicenda sulla questione, sul blog, ma anche quando ci si vedeva, perché con noi nelle spasse scendavamo giù in Val di Susa e poi ci si confrontava, chiaramente se si confrontava, e da lì è venuta anche dire, beh, ma perché non riusciamo a portare il confronto, anche noi siamo un po' in terra neutra e Valle d'Aosta, sul tema. E partendo da questa idea abbiamo avuto subito il suo segno di regaliente, come poi dirà Alessandra, sulla questione che ogni associazione sta svingendo appunto per il dialogo e per il confronto sul merito. Due parole sulle modalità organizzative della serata. L'idea che avevamo era appunto, con 20 minuti circa, di relazione da parte di un ultimo relatore, 20 minuti di controllo di relazione, retiche da parte di un frango di 18 minuti e poi soprattutto con le domande da parte del pubblico, anche perché questa qua sicuramente è un'occasione d'oro per chi di noi, immagino che siamo in tanti, ha ancora dei dubbi sulla questione, per dirà di quello che leggiamo semplicemente sui giornali, ci rendiamo comunque tutti conto che di sicuro è una questione complessa, che non può essere risolta in un articolo di giornale o in 5 minuti di servizio al giornale, non sarà probabilmente risolta neanche in due ore di dibattito, però che all'auspicio è che si danno comunque degli spunti di riflessione appunto per il confronto. Cederei quindi la parola a rappresentanti appunto delle altre due associazioni che hanno venuto questa serata, comincerei con Alessandra di Leviente. Buonasera a tutti, grazie a Alex. Io voglio solo spiegare che il motivo per cui a noi come l'ambiente del circolo Valle d'Aostra è molto piaciuta questa proposa che ci è arrivata a dare spazio, perché nella vita quotidiana nostra di circolo ambientalista, sapete che attualmente Valle d'Aostra sono molte delle questioni che infiammano molto le animi, per esempio la questione del video elettico, per esempio le questioni di renti rifiuti, ci capita molto spesso che le persone indichino come un limite il fatto che sulle singole questioni si organizzino sempre serate da notte, scusate, la serata a favore del pirogasico, la serata contro e persone che magari non hanno ancora fatto un'idea precisa vorrebbero proprio esufruire di occasioni in cui sentire contestualmente opinioni di entrambe le parti in modo da poter poi ragionare con la propria testa in autonomia. E ci è sembrato molto interessante cogliere questa occasione in cui mi sento molto di ringraziare al nome della nostra associazione SPAS e Alex che si riesi per organizzarla. A profitto di questa occasione per ribadire che anche l'opposizione di legambiente a livello nazionale è ormai fortemente definita a favore di una dimensione contro la TAV ovviamente. C'è stato un momento forte nell'ultimo congresso di legambiente a Bari, quando approvata dal congresso nazionale una mozione che impegna appunto l'associazione sul versante non TAV e voglio sottolineare che quando la nostra dilettrice nazionale Carossaloni nelle sue conclusioni ha ripreso questa mozione e la pressa all'interno di quello che è il programma operativo dell'associazione per questo periodo per gli anni a venire e ci stanno un po' fermati da parte del congresso. Ovviamente questa posizione era molto matura all'interno dell'associazione. Come ambientalisti scientifici abbiamo sposato a livello nazionale l'appello di molti uomini di scienze e di cultura, quindi figure estranei sostanzialmente al movimento di una TAV che si sono però pronunciate contro l'opera e hanno lanciato un appello che trovate sul sito di legambiente che vi invito ad andare a leggere e sono quindi a sottoscrivere che parte da alcune proposte molto semplici cioè che l'opera è stata progettata vent'anni fa e che in sostanza non serve e insieme a questo e vi invito ad andare a leggere anche questo e qui c'è una breve sintesi delle ragioni del no di legambiente poste a confronto con l'ultimo documento del governo del febbraio 2012. Ci sono documenti molto semplici e molto sintetici che vi invito veramente alla legge. Grazie Alessandro, c'è adesso la parola a Raimondo Rozzer del PD Valdosaro che ringrazio per aver deciso di partecipare come partito questa serata, anche per lui diciamo che non era una sfida facile da accettare, per noi ripeto era facile realizzare questa iniziativa e quindi va veramente apprezzato questa disponibilità al contatto. Grazie Alessandro, grazie a tutti. Sobrevicini, intanto mi sento a casa mia perché sono slacci come molti del PD Valdosaro che non mi sento tanto nella palla del lupo. È un po' la questione probabilmente della Tav che ci vede su posizioni diverse ma per tanti altri argomenti la pensiamo nello stesso modo. Io ringrazio davvero te Alex, ringrazio Fabio Potasone, presidente del PD regionale per aver dato l'opportunità di questa serata, ringrazio i relatori che hanno accettato questo confronto perché a me prendeva molto tra di noi il confronto su questo tema in modo sereno perché noi stiamo facendo da anni ormai una battaglia, vedo molti amici, presenti, compagni, su una questione della ferrovia uradustana e spesso a volte in questi anni la Tav è stato un elemento di disturbo nei nostri rapporti, sicuramente la pensavamo in modo diverso e quello che mi pare è invece che questo elemento non sia una ragione per cui noi finiamo insieme la battaglia sul tratto terrodiario uradustano sia il problema dell'ostra che il basso sia il problema dell'ostra per sentire. È un modo di dire, quando la pensiamo è molto diverso su altre questioni, parliamone, ma non portiamo questa cadura al di là di quella che è un confronto da persone che hanno molto più cose da condividere che cose del viceparo, soprattutto quanto riguarda la battaglia d'ostra. Quindi grazie davvero e secondo me è giusto che si esprimano i relatori e poi si possono delivare in modo di confrontarci. Grazie ancora all'espasso per questo altro punto. Grazie, lascerei adesso la parola quindi ai nostri due relatori. Farei iniziare se va bene, le schimia inizia lei e poi dopo tanto vi divertite. Ah, pensavo di iniziare a questo. Per me non passo avanti un microfono. A tutte le volte che ci si può confrontare nel merito di un tema, in modo rispettoso delle diverse posizioni, io non mi sento mai a casa del lupo, voglio dire nella casa del lupo, per cui quando mi è stato chiesto la disponibilità a partecipare a questo incontro non ho avuto particolari livelli a riguardo. Due parole, io mi chiamo Aldo Reschini e sono il capogruppo del PD in Consiglio regionale del Piemonte, vengo dalla più piccola provincia del Piemonte, quella del Verbalo Pugiosso e quindi non sono direttamente espressione della realtà territoriale che da molti anni sta vivendo questo tema, ma sicuramente questo è un tema centrale per le ragioni che cercherò di legnocemente nel mio intervento, non solo per chi vive la dimensione della valle di Suso o della provincia di Torino, ma un tema centrale per il Piemonte e per il nostro Paese credo che sia giusto, ripeto, confrontarsi su questo tema. Perché ho spiegato dove vengo? Perché mi serve innanzitutto presentarmi, ma anche perché nella mia provincia, la mia provincia è attraversata dal traforo del Sempione. Il traforo del Sempione è stato realizzato, e non la prendo lontano, poi arrivo subito fuori, il traforo del Sempione è stato realizzato per l'iniciativa lombarda e non piemontese, nello praticamente a Piemonte, ma economicamente e culturamente molto legata alla Lombarda, perché vi era la necessità sostanzialmente in quel momento e in quei tempi per le attività economiche lombarde di intercettare o di avere le vie di comunicazione delle merci che gli consentissero di entrare nella poesia dell'Europa centrale, soprattutto, che erano interessati in cui vogliono dire ai flussi commerciali. E attorno a quell'opera, attorno a quell'opera si è consolidato il sistema di sviluppo industriale del trafato giusto. Questo mi consente con la relazione. Quando ragioniamo in relazione al sistema dell'infrastrutturazione non ragioniamo unicamente di un qualche cosa che dovrebbe consentire alle persone all'energia di potersi muovere con più velocità rispetto al passato. E' già un punto. Ragioniamo sostanzialmente di un sistema dell'infrastrutturazione che rappresentano comunque volente o non lente gli assi dello sviluppo economico del futuro. Per un sistema dell'infrastrutture si andrà a collocare, a localizzare i nuovi esigliamenti economici. Non dico prodotti limitamente, ma economici. E qui vorrei partire da un'altra apparentemente provocazione. Io vorrei che ci ricordassimo un po' tutti assieme, noi che ci riconosciamo con impronte più riformiste, la mia, più radicali quella di altre forze politiche della sinistra, ci ricordassimo un po' brevemente andando indietro nel tempo e nel passato di quella che è stata una delle ragioni fondamentali delle critiche che le forze di sinistra hanno rivolto rispetto al modello di sviluppo economico che si è attuato nel nostro Paese. Ed era un modello di sviluppo economico che si basava sostanzialmente sul sistema della mobilità sull'uomo. Le persone e le merci avevano unicamente questo tipo di dimensione. Vorrei ricordare anche quando le della sinistra invocavano provvedimenti più certe che altri Paesi dell'Europa, la Svizzera o l'Austria, da voglio dire, hanno assunto per fortemente penalizzare e in alcuni casi anche eliminare la possibilità che l'attraversamento di quei Paesi avvenisse per quanto riguarda le merci, soprattutto attraverso il sistema comunemente sviluppato all'interno del nostro Paese, che è quello che il trasporto supera. Venendo qua questa sera da Torino, dove abbiamo finito l'ennesimo Consiglio regionale sul tema della riforma sanitaria intervolta, i pochi mezzi che ho incontrato, vuol dire, visto allora, poi grandi mezzi che hanno parcheggiato all'interno degli anni di sosta erano prevalentemente effettiva. Oggi il sistema italiano è un sistema che vede sostanzialmente solo il 7% degli merci essere trasportati sulle rotali, sull'alte rotali. Questo è il primo punto che io vorrei riuscissimo a comprendere. Il secondo punto cerco di rappresentarlo in questo modo. Io non credo che il futuro economico che passa attraverso una rimessa in discussione molto forte del modello attuato dal dopoguerra in avanti all'interno del nostro Paese, passi attraverso o si possa realizzare attraverso un più recinto dei nostri convini nazionali. Se vogliamo costruire un nuovo modello economico, lo possiamo fare con scelte che guardano alla nostra dimensione a un valore di scelta. Ma dobbiamo assolutamente evitare che il nostro Paese e, nello specifico, la Regione Piemonte, esca dalla dimensione della relazione con gli altri Paesi europei. In questo l'alta capacità Torino-Lione è un problema ed è un'opportunità, sia sotto il profilo del problema, sia sotto il profilo dell'opportunità, non che riguarda unicamente la realtà del Piemonte. Negli ultimi settimane, negli ultimi mesi è diventato un problema di scelta, di politica, economica, che riguarda il nostro Paese. Sono abituato a presentare l'immagine del Piemonte come un Paese non amo, immaginare che tutto si risolva sul sistema dell'infrastrutturazione, come una Regione ad una grande costa. Da un lato c'è il collegamento e il rapporto con Lisbona-Chiev dentro la quale si colloca il pezzo dell'alta capacità, da un lato c'è il collegamento sud e nord che è il collegamento dei porti migliori con i paesi dell'Europa centrale, la Germania in prima va tutto. Io mi rendo conto che affrontare queste tematiche significa affrontare un tema non semplice per le forze dell'Assemblea, complessivamente valutare. Però il Piemonte può costruire il proprio futuro solamente se riesce a fare in modo che questa croce che è idealmente rappresentata oggi sulla propria cartina geografica diventi uno strumento corretto di infrastrutturazione del territorio e in secondo luogo diventi un'occasione non solamente di transito e di attraversamento ma diventa un'occasione su cui costruire una nuova stagione di infrastrutturazione. La terza decisione da cui volevo partire è che nella vicenda che dura vent'anni, voglio dire, sull'alta capacità torriolione, errori ne sono stati conti moltissimi. Il principale errore non asperibile alle forze del centro-sinistra, se è ben chiaro, è stato quello di immaginare come un tema importante, vitale, ma delicato, come quello dell'infrastrutturazione del territorio possa passare attraverso provvedimenti straordinari quali le leggi complettive. E' stato quello del loro ripartenza sostanziale, cioè attraversi provvedimenti che facessero a meno sostanzialmente della necessità della costruzione di un consenso con le amministrazioni, le forze sociali, le comunità locali, perché il presupposto della legge obiettiva era quello di immaginare che la realizzazione di un infrastrutturazione attraverso il suppiamento del confronto con la dimensione locale. Questo ha portato dagli errori progettuali macroscopici contro tutti i progettivi, dall'altro lato a costruire un sistema di nuova relazione e di nuovo rapporto. E' quello che non è avvenuto storicamente all'interno della Francia, dove da tempo esiste una legge che noi in Piemonte abbiamo cercato sostanzialmente di riprendere, sia pur con le differenze molto forti tra un provvedimento legislativo nazionale e un provvedimento legislativo regionale, che è la legge che sostanzialmente impone che la realizzazione di una grande estrutura sia innanzitutto un'occasione di rapporto, di coinvolgimento, di sviluppo che abbiamo ragionato con le comunità locali. Questo è il dato di tre riferimenti da cui vorrei partire sulla mia riflessione. Che cosa è avvenuto nel corso degli anni? E' avvenuto sostanzialmente che, grazie per l'iniziativa delle forze del centro-sinistra e sotto questo aspetto voglio ricordare che la chiave di svolto è stata rappresentata nel corso della precedente legislatura regionale, dal governo regionale di Mercedes Reso, che la legione Piemonte giocava un ruolo molto forte anche su costante, collettiva, sulle situazioni da parte delle comunità locali, un ruolo forte perché si superasse lo strumento della legge obiettivo come strumento coercitivo e si avviasse un confronto con le comunità locali teso talmente a definire le condizioni attraverso le quali un'opera poteva essere realizzata. E' nato l'osservatorio, e' nata l'escazione che io considero in te positiva del rapporto nel dettaglio sui trattualità di intervento, sulle operazioni tese a rendere sostenibile sotto il suo filo ambientale quest'opera. E' stato definito l'accordo di Pracatinan nel corso del quale sostanzialmente e' stato non solo definito l'accordo in cui c'e' stato il consenso da parte di tutte le amministrazioni locali della Valle di Susa e non solamente la Valle di Susa, un accordo di Pracatinan nel quale e' stato definito la metodologia attraverso il quale l'opera si doveva essere, doveva proseguire. Sono stati modificati in modo molto forte i tracciati affrontando tematiche che nel passato erano state affrontate anche in modo molto sufficiente. E' stata eliminata una galleria che attraversava forse la zona più delicata sotto il profilo delle conseguenze ambientali. E' stato ripristinato sostanzialmente un lungo tratto quello su cui dovrebbero partire o partiranno i lavori per l'analizzazione del primo foro pilota. E' stato definito sostanzialmente un meccanismo, e' stato definito anche un protocollo circa l'allottanamento dei materiali di risulta delle scalpe della galleria. E' stato definito sostanzialmente un sistema attraverso il quale rendere più sostenibile, più compatibile sotto il profilo ambientale la realizzazione di quest'opera. E' stato anche affrontato da parte dell'amministrazione provinciale di Torino un piano che è quello strategico per la Valle di Susa, nel quale sostanzialmente fa in modo non solo di ridurre al minimo durante la realizzazione del cantiere le conseguenze negative sulla vita sociale e anche sulla dimensione ambientale all'interno delle aree attraversate dall'alta capacità, ma come anche far ridare o restituire in una valle che aveva dentro di sé ancora i segni profondi, voglio dire di un'infrastrutturazione realizzata in modo non corretto, come restituire una nuova dimensione all'interno della Valle di Susa. Oggi, se posso dire al termine di questo percorso che è stato non semplice e notevolmente faticoso, io faccio fatica a immaginare che l'alta capacità Torino Lione non possa e non possa e non debba essere considerata come un'opera sostenibile sotto il profilo ambientale, o perlomeno rispetto alla quale rappresentativa di un modello di sviluppo che si richiama sostanzialmente anche come superamento positivo a quella forte critica che nel corso degli anni 60-70 le forze della sinistra hanno espresso nei confronti del modello di sviluppo economico che ha caratterizzato la nostra regione. Perché è necessaria quest'opera? Perché non è pensabile di accentuare la percentuale di merci che viene asportata su ferrovia di scapito alla Roma quando i tempi, le modalità e anche le imidatezze dell'attuale galloio, delle pendenze, la non possibilità di far ospitare sui coinvolgi i container che oggi sono lo strumento attraverso il quale su ferrovia le merci vengono trasportate sono impraticabili rispetto alle esigenze della vita economica. Se si ragiona rispetto a politiche tese sostanzialmente a istituire finalmente all'interno del nostro Paese questa dimensione del trasporto delle merci non più su Roma ma su Italia, occorre che però questa di incertezza nei tempi sia compatibile sotto il profilo economico e conveniente sotto il profilo economico. a parte la dimensione di un Paese che correrebbe un grosso rischio nella misura in cui allontanerebbe la propria capacità di relazione e di intercettazione rispetto a progetti di infrastrutturazione che non riguardano solamente la Vale di Sura, il Piemonte e il nostro Paese ma che riguardano tutto il tratto dell'Europa, dell'Ovest e Est dell'Europa con il rischio proprio della marginalizzazione. Oggi questo tipo di situazione all'interno della Vale di Sura di questo collegamento non c'è ed è questa la ragione fondamentale per cui ci si dirà e nello spetto anche nel confronto di questa serata di questa sera che oggi rispetto ai volumi di trasporto su ferrovia l'opera appare sovradimensionata ed è vero. Vorrei solamente però anche porre l'attenzione vostra su un punto, quando mai all'interno di un Paese la realizzazione di un'infrastruttura anche impegnativa sotto il profilo economico, viene realizzata su dati dimensionali che apparegono al presente. L'infrastrutturazione di un'opera guarda e traguarda al futuro, peraltro un futuro neanche molto vicino a noi, voglio dire, relativamente ai tempi della stessa. E comunque anche all'interno dei lavori fatti dall'Osservatorio regionale per la rivisitazione del tracciato, la realizzazione per fasi successive è una realizzazione che tiene sui tratti dove la linea storica è in grado ancora di sopportare i volumi attuali e anche prevedibili nel breve e medio periodo di incremento del trasporto delle merci su rotaia, di posticipare questo secondo intervento a quando vi saranno effettive esigenze. Ma oggi le pendenze che ci sono nei limiti di transitabilità che ci sono all'interno della materia attuale renderebbero assolutamente impraticabili immaginare che attraverso quel percorso e attraverso quell'opera attualmente esistente che possa realizzarsi questo collegamento di creazione di questa infrastrutturazione peruviale che dovrebbe sostanzialmente unire l'Ouest e l'Est dell'Europa. Quindi siamo in una dimensione di questo tipo. anche brevemente richiamare un senso che è anche un senso di coerenza all'interno dei comportamenti e dei ragionamenti della forza della sinistra. Dicevo prima che io trovo molto incompressibile la coerenza o un minimo di coerenza tra quello per cui la sinistra si è impegnata nel corso dei decenni precedenti come forte critica rispetto al modello di sviluppo italiano e all'intrastrutturazione e ai modelli di trasporto delle merce all'interno del nostro Paese in quella che è la posizione che oggi viene escresa attorno a quest'opera. E' anche molto incoerente, lo dico, cambiamenti di atteggiamento che vedono esponenti di forze che oggi sono all'opposizione all'interno del nostro Paese che non ragionavano nello stesso modo quando erano all'interno di un'esperienza di governo quale quello dell'ultimo. Non mi riferisco alla Federazione della Sinistra o alla Fondazione Comunista del passato, ma lo dico in termini molto espliciti. Mi riferisco ad Antonio Di Pietro che quando era Ministro per l'infrastruttura non è venuto all'impianto in quale vissura a dire su un tracciato molto diverso e su un tracciato assolutamente meno sostenibile sotto il profilo economico o tardi o morte. O anche l'ex Ministro dei Trasporti, voglio dire il governo Prodi che anche esso è venuto a presentare una posizione così come anche trovo un po' difficile immaginare la coerenza politica tra esponenti vitici della Sinistra che io rispetto perché il rispetto è parte della mia esperienza personale e della mia vita personale che oggi si schierano contro l'alta capacità Torino-Lione salvo il fatto di chiedere che quelle risorse vengano dirotate per realizzare tratti di alta capacità nelle redoni dove loro governano l'amministra o si è contro da un modello di infrastrutturazione del nostro Paese che punti sostanzialmente a trasferire dalla gomma alla ferrovia la mobilità delle persone e la mobilità delle merci ma allora lo si è contro anche in altre regioni non solamente all'interno del Piemonte oppure bisogna che tutti assieme recuperiamo anche un minimo di coerenza di comportamento sotto questo aspetto. Grazie 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 esperti, ai tecnici e anche ai politici. Credo che questo sia una questione molto importante e questo credo è lo slogan alla quale mi ispirerò in qualche modo il filo conduttore di un intervento è risultato in quelle poste che vedete anche proiettate. Non è necessario essere vansusivi per essere in realtà la notare, basta essere onesti e informati. Credo che le gestioni si pongano, ma lo dirò dopo, se sarà troppo duro, chiedo ad Alex di fermarmi e poi passo i numeri con una breve premessa. Credo che le gestioni alla fine si riassumano in questi tre punti. Se c'è una nuova opera, una nuova infrastruttura, qualsiasi cosa che comporta una spesa così netta, la prima cosa che uno si chiede è se serve. È risposto la prima domanda di chiesi quanto costa, la terza domanda è se abbiamo la possibilità di questa spesa, la quarta domanda è chi paga. Credo che in questo siano le quattro domande a quali cercherò di dare una risposta. Faccio solo una premessa prima di trarre a noi. Se vuoi passare alla successiva, grazie. C'è un riferimento di questa immagine della Grecia. io ho il riferimento del mio intervento, sarà sul documento presentato dal governo per il secondo anno, fa 14 punti. Poi in questo documento, nelle prime cinque righe, si parla tre volte c'è la parola crescita. Nella prima pagina si parla ripetutamente di sviluppo e di competitività. Credo che sia giusto che sia fatto. Quello che forse manca, e avrei gradito un accenno al fatto che in un momento di grave crisi, in un momento in cui il paese è in recessione, un momento in cui ingenti risorse vengono sottratte allo stato sociale, al lavoro, alla cultura, all'informazione, eccetera, credo che qualche riflessione su questo avrebbe dovuto farsi. Ma adesso passo rapidamente ai numeri e cerco di scorrere velocemente, magari saperò i punti, se no non cercarei i 20 minuti, nei punti del governo. Allora, il primo punto parla di un'opera a livello strategico, un'opera strategica e dice che l'opera ci viene richiesta dall'Europa. La cosa che vi chiedo è, vorrei una prova, soltanto una, che l'Europa ci chiede di quest'opera. L'Europa non ha mai chiesto che venisse realizzata di Torino e di Unione una linea d'altra città, d'altra città. È vero che in Europa c'è un progetto di particolare pascordi ferroviari che prevede degli assi, dove ci sono dei flussi di merci. E in questa logica l'Europa ha individuato 30 progetti di priorità. Ma quando si parla di corridoio, in questo caso si fa spesso riferimento erroneamente al corridoio che sbonna a Chiede, non si immagina un corridoio in cui tutte le tratte abbiano la stessa volgerità, ma si intende un corridoio in cui c'è un flusso di merci, di passeggeri, all'interno del quale l'interno del corridoio di diverse tratte possono avere soluzioni diverse e specifiche. Questa è la situazione, quindi non c'è la richiesta dell'Europa a fare quest'opera con queste carattere. Se ci fosse, mi prego la domanda, ma è proprio necessario che si debba sempre rispondere di sì? Il portogallo in questi giorni ha dimostrato che è possibile in qualche modo dire anche noi. La seconda questione, appunto, toccato dal documento del governo, è il posto. Salta fuori un numero, 8,2 miliardi di euro e si parla di progetto low cost realizzato per farsi. Allora, vorrei che qualcuno mi dicesse, da dove saltano fuori gli 8,2 miliardi. Fino a questo momento, nello stesso progetto preliminare presentato da LTF, si parla di 10,3, 10,2, qualcosa di circa 3 miliardi di euro. Questo degli 8,2 è un dato che non compare in nessun documento finale. Si dice che l'Europa potrebbe, e si usa per fortuna condizionale, potrebbe erogare il 40% di quest'opera e che in Italia resterebbe il 3,3%. Voleva appena solo, velocemente, di ricordare questa linea in cosa consiste. La tratta Torino-Lyon, in grosso modo, possiamo suddividere in questi pezzi, da Lyon a Chambéry, da Chambéry a Saint-Jean-de-Maurienne, cioè l'imbocco di quello che potrebbe essere il tunnel laser versante Francesca, su Usa-Bussolène, dove dovrebbe finire il tunnel di base, poi chiuso a San Michele, e adesso dirò perché lo cito, il nodo di Torino. Ora, al momento il progetto preliminare di Saint-Jean-de-Maurienne chiuso a San Michele. Il progetto low cost di cui parla il governo in questo ultimo documento, in qualche modo cancella a chiuso a San Michele e toglie i 23 km di questa tappa e si ferma all'uscita del tunnel a Susa. I francesi, ed è previsto per questa tratta, come prima fase, la realizzazione del tunnel di base, e poi dopo il nodo di Torino. I francesi, anche loro in questi anni hanno visto il loro progetto, ricordo che fino a poco tempo fa, i francesi prevedevano, i francesi che hanno delle linee liberate a velocità da anni, ma nessuna di queste passa a un chilogrammo di merce, come nella maggior parte in quasi tutti i paesi del mondo sanno bellissime tratti. I francesi prevedevano anche sulla tratta Torino-Lione, perché le merce, una volta uscite dal tunnel di Saint-Jean-de-Moyenne, venissero diattate sulla linea Torino, e sull'altra loro città continuano a circolare soltanto i treni passeggeri. Hanno modificato in quest'ultimo tempo il loro progetto, e l'attuale, anche loro parlo di progetto per fasi, prevedono di privilegiare nella prima fase il trasporto passeggeri tra Lione e Chambery, in una linea seppur mista, quindi con la possibilità di far passare anche delle merci, e prevedono che tra Chambery, vicino a Chambery, fino all'imbocco del tunnel di base viene realizzata una linea dedicata esclusivamente alle merci, non ai passeggeri, alle merci, tra l'altro con un binario unico, ad unica canna, nelle tre gallerie che esistono tra questa tratta. A questo punto treni, merci e treni passeggeri tornerebbero, si incannerebbero lo stesso tunnel di base. Credo che ci sia un qualcosa di denunziale da questo punto di vista, anche da parte dei francesi. Nel punto 3 del governo si parla di importanza economica, e si parla di dati, vi vedete di quanto è l'iperscambio commerciale tra Italia e la crescita civile. Credo che sia importante far notare, oltre quello che viene detto, che è quello che non viene detto. Nella tabella della slide successiva, vengono riportati alcuni dati, alcuni dati che si riferiscono a una precisazione. Tutti i dati a cui faccio riferimento, sono dati che vengono presi come riferimento a livello universale, da tutte le parti. sono dati del dipartimento federale dei trasporti della Svizzera e sono veramente presi come punti di riferimento. Allora in questa tabella si vede che il flusso del mercato di tonnellate anno verso la Francia cresce, scusate, diminuisce e non rimane costante da 99 al 2009. In 2009 in realtà c'è stata una piccola funzione recuperata nel 2010 e nel 2009, mentre cresce nell'Astria e nei confronti dell'Astria e della Svizzera. Perché i flussi di merci in questi ultimi anni soprattutto siano orientati sull'asse nord-sud e non est-or, questo è un dato di fatto di un nuovo mistero. Questo non mi porto ovviamente a concludere che invece il terzo valico sarebbe una cosa buona e saggia. Questi stessi dati in qualche modo vengono rassunti da quest'altro grafico, questi grafici sempre alla fonte Svizzera, in cui si vede nella prima, nella primo grafico a sinistra, il flusso del mercato in Francia, la parte più scura in base, la ferrovia, la parte più alta, quella su Roma. Al centro c'è quello della Svizzera e quello dell'Astria. Si vede chiaramente l'andamento che dicevo prima, vale un'osservazione. Anche Reschigna parlava prima della poca quantità di merci che viaggiano nel nostro paese su Rottai e il documento del governo fa riferimento al fatto che una piccola parte delle merci in effetti viene recitata da Rottai. C'è un piccolo dato da tenere conto che è dimostrato che la creazione e la costruzione di una nuova infrastruttura ferroviaria di per sé non comporta automaticamente il passaggio delle merci da camion, da tir a ferrovia. Non è così. Non è così e tutte le esperienze lo possono dimostrare. Ciò che comporta un saldo veramente qualitativo sono le politiche tariffali di incentivo e disincentivi il trasporto su Rottai. La Svizzera e l'Austria lo stanno dimostrando. E questo spiega perché anche in Svizzera e in Austria cresce percentualmente, guardiamo solo la Svizzera nel traffico centrale, quando la ferrovia sta erodendo i margini rispetto al traffico complessivo. Il traffico ferroviario dell'Italia-Francia oggi è di 3,9 milioni di tonnellate, in realtà un dato dell'anno precedente. I passeggeri sono meno di 2.000 al giorno. Ci sono tre coppie di premi che viaggiano a nessun flattorino di loro. Qualcuno ha fatto dei conti seri e ha calcolato che per avere una volta realizzata l'opera, abbiamo un equilibrio economico di gestione, sarebbero necessari non 2.000 passeggeri al giorno, ma 20.000 passeggeri al giorno. E che non sarebbero necessari 0,9 milioni di tonnellate all'anno, ma ci sarebbe la necessità di 50 milioni di tonnellate all'anno, cioè circa 10 volte tanto per i passeggeri e 13 volte per le merci. Credo sia importante anche questo punto, il documento del governo non lo fa, confrontare i dati progettuali delle diverse tratti e confrontarli anche con i dati reali. Allora, il progetto Torino-Lione prevede il passaggio di 255 treni al giorno, di cui 191 come capacità potenziale, 191 di questi merci. Questi convogli dovrebbero, una volta arrivati a domino, essere naturalmente installati verso la prima paragge, quello che è il flusso di traffico, che è lo stesso corridoio così chiamato corridoio 5-6. attualmente, anzi, il progetto Milano-Torino ad alta velocità, sulla quale ricordo non passano i merci, prevede 60 convogli al massimo al giorno nella tratta da Novara-Milano, quindi per la strozzatura, e 160 trattorini a Novara. Di questi soltanto 6 sono merci, il progetto. Questo non è il progetto. Ma la realtà qual è? Che tra Torino e Milano viaggiano 9 copie di treni al giorno. Credo sia importante fare questi confronti per renderci conto di quali sono le cifre che vengono in qualche modo proposte quando si parla di infrastrutture che devono anche guardare molto in là. Vale appena, per un attimo lo faccio velocemente, vedere come è stato negli anni da lontani, dal 1980, l'andamento dei flussi di traffico verso la Francia e quali sono state le previsioni dei proponenti locali. Nel primo in questo grafico vedete la curva in basso, scusate, si legge poco, ma in ascisse, cioè sulla linea in basso, si parte dal 1980 e si arriva al 2010. Vedete la curva più bassa è quella che mostra l'andamento del traffico delle merci sul tratto, diciamo, verso la Francia. Essenzialmente sul tratto della Vassusa, perché qui vorrei fare una precisazione. Ventimiglia è un valle in cui passano un notevole flusso di merci, soprattutto, quasi esclusivamente su gomma, ma il traffico di ventimiglia non viene considerato di flusso verso la Francia. È un traffico di transito attraverso la Francia verso la Spagna e nessuno si sognerebbe per far passare delle merci dall'Italia alla Spagna e di fare addivviare a Torino e a Lione. In questo occorre osservare la pena anche di osservare come in tutte le frontiere, non soltanto in qualità della Francia, il 95% delle merci è merci che va dai paesi confinati, soltanto il resto è transito. Andiamo al grafico successivo in cui si vede, in rosso, quello in rosso è l'ipotesi che è stata fatta negli anni 90 di crescita delle merci. Ora, se guardato rispetto agli ultimi anni avrebbe potuto avere un senso, ma chiunque faccia, diciamo, studi un po' di matematica, penserebbe che andrebbe considerato il periodo un po' precedente, non soltanto negli ultimi due o tre anni. Andiamo ancora avanti. Da quegli anni, dagli anni in avanti, il traffico merci cala. Cala su ferrovia e ha un picco, in realtà, sulla gomma, ma sono gli anni che corrispondono alla chiusura del Monte Bianco, il cui fregius ovviamente ha detto un picco, che poi è stato riassumito. Bene, andiamo avanti. Qui, negli anni intorno al 2004, viene fatta una nuova previsione. E viene riproposta esattamente l'andamento di prima, senza tener conto di cosa è successo nel frattempo. Andiamo ancora avanti. Il traffico continua a scendere. Si continua a scendere arriva al 2009, che è meno di 3 milioni di tonnellate e su cresce leggermente nel 2010, 3 milioni che dicevamo prima. A questo punto una nuova previsione è questo. Il risultato. Non è successo niente. Cioè non si tiene conto dei dati reali di traffico. Credo che questo sia veramente una cosa poco comprensibile per chi vuole farsi un'idea delle ragioni. Nel grafico successivo c'è un po' un riassunto di questa situazione, in cui in basso vedete l'andamento del flusso delle merci su ferrovia, più in alto la curva su strada, in alto su quella curva, su quella retta orizzontale con quel numero 32,1 è la capacità della linea storica teorica massima, è la capacità massima. Questi numeri, questo grafico, mostrano la distanza vissale tra quello che è la realtà di oggi, le previsioni di prima fatte le abbiamo viste prima, ma c'è un rapporto 1 a 8 con un traffico che cresce e scende in questi anni tra la potenzialità della linea e quella che ha il suo utilizzo reale. In realtà quei 32,1 è un valore massimo che non tiene conto, ad esempio, della manutenzione, del fatto che passano anche i passeggeri, eccetera, ma è la peggiore dell'ipotesi, questo 32,1 diventa 20, sempre un'ordine di grandezza superiore a quello del flusso. Quattro minuti? Tre minuti, devo andare veloce, se scoro un po' recupero il parlo a veloce. I punti qualificanti del nuovo accordo, il quarto punto, ma siamo appena al quarto, quindi andrò sicuramente più veloce adesso, se no a tanta velocità, fa riferimento all'accordo che c'è stato a gennaio con la Francia e che l'accordo che è stato sbaglierato è finalmente l'avvio dei lavori, di avere lavori di opera ormai avviata, sulla quale non c'è più niente da fare, non si parla mai da anni. Anche questo accordo non dice che l'opera prenderà avvio. Nel punto quattro dell'accordo testuale, ma non è stato detto, è stato nascosto da tutti i media, si scrive, si legge testualmente, il presente accordo non ha come oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi dalla parte comunitola francese. Questa è una cosa importante. vado avanti sul consenso e confronto con il territorio. Dire che ci sono state 183 sessioni di lavoro settimanali, come dice il documento del governo, è riportare il dato, ma la differenza tra confronto e consultazione è la stessa che abbiamo visto in questi giorni, ad esempio, sul tema del lavoro, in cui le parti sociali vengono consultate, ma da questa consultazione non si traduce un confronto e poi il risultato è comunque io ti ascolto e poi decido. è stata esattamente la logica che è ispirata ai lavori d'osservatorio di questi anni. Nel 2010 ricordo che dallo stesso osservatorio sono stati banditi, esclusi tutti i comuni interessati dall'opera che non si dichiarassero a priori favorevoli. Questo è un concetto di democrazia che il movimento notave ha messo in discussione in questi anni. Non mi fermo, mi sofermo, andiamo pure avanti sul punto 6, dove siamo arrivati? Su questo, sulle linee di canure, eccetera. Avanti la Francia, vi ho detto che ormai più avanti hanno fatto tre delle scenderie. Le scenderie sono per un totale di 9 chilometri. Non sono un pezzo del tunnel di base, sono tunnel geognostici, circa perpendicolari a quella che dovrà essere il tunnel e servono di studio che potrà armare gallerie di servizio. Andiamo ancora avanti perché devo andare veloce e non mi dispiaccio. Al punto 8 si fa un'affermazione in cui si riportano dei dati. Questi dati sono sbagliati, i flussi di traffico che avevo visto prima sono errati, o per sbaglio lo faccio bene, perché gli anni traffici si sono ridotti dagli anni 90, scusate, del 50%. Il punto 9 dice che ci saranno delle ricadute occupazionali. Ora, la legislazione europea per i territori interessati, importante, la legislazione europea, quella nazionale, esclude che ci possono essere delle associazioni di lavoro a livello geografico perché c'è una normativa di gare internazionali di evidenza pubblica alla quale occorre tenersi. occorre inoltre ottenere conto che gran parte di questi lavori sono fatti da ditte altamente specializzate con un'alta tecnologia, se escludiamo ovviamente la bassa manovalanza che è fatta generalmente con lavoratori che arrivano dalle regioni del sud o immigrati, in cui il lavoro nero è la norma spesso e non è l'eccezione. Credo che se arrivi sull'abilità energetica faccia solo questa osservazione. Quando si parla di bilancio energetico non bisogna fare i conti soltanto con una linea quando sarà in esercizio, bisogna farlo complessivo, bisogna considerare anche il consumo di energia che viene fatto nei 10, 15, 20 anni di cantiere. Allora se il bilancio viene fatto in questi termini, il risultato è negativo. Non c'è un bilancio energetico positivo nel passaggio da gomma a treni, anche tenendo conto di quei dati ottimistici di cui diceva il governo. Occorrebbe considerare altri fattori nei quali l'obidi lungo, ad esempio, che per raffreddare un tunnel nel quale la temperatura arriverà a 47 gradi, occorre spendere tanta energia quanto quella per far circolare 143 di che se passassero dall'altra parte non avrebbero bisogno di questa energia. Credo che il punto più grave forse è proprio sulla data ambientale, il punto 11, in cui si dice, categorico, che il progetto non genera danni ambientali diretti o indiretti e che l'impatto sociale è assolutamente sostenibile. Ora, una qualsiasi opera, piccola, grande, media, provoca dei danni, ovviamente. Potranno essere contenuti, potranno essere temperati da qualche intervento, ma comunque che siano nulli è incredibile. Teniamo conto anche che i danni alla vita sono cumulativi. in una valle che è stata già percorsa sul cantiere per 40 anni, la doppia della linea ferroviaria, una nuova autostrada, una centrale a poventù. Quindi c'è già un'accumulazione del danno, del quale ho ancora tenuto conto. E poi c'è il danno sulla salute. Lo stesso progetto preliminare dice che l'impatto sulla salute pubblica nei vent'anni di cantiere avrà una significativa rilevanza. Parla del 10% di incremento di patologie cardiocircolatorie respiratorie e del 10-15% di affezione respiratoria in crescita. Tradotto, i medici l'hanno fatto, significa 240 anni. Allora, se questa è una sostenibilità accettabile, io lo tolgo alla vostra attenzione. Taglio alla fine, facendo semplicemente, lascio perdere la questione dell'osmarino, eccetera, eccetera. Vi dico soltanto su ultimo punto qual è stata l'invenzione reale del consenso con le proporzioni. Riferendomi di nuovo a quel confronto che si tratta dal massimo di consultazione, salvo dire poi decidiamo. I comuni che hanno deliberato ufficialmente contro quest'opera sono 25. La comunità montana è sempre stata contraria. sono contrari anche i comuni presso i quali ho previsto che verrà portato all'osmarino. E in più, non occorre considerare, quando si parla di soltanto due amministrazioni specificamente contrari, non si può considerare solo i comuni in cui il tratto passerà in superficie, perché ci sono i domori di galleria, ci sono i ventanni di cantiere, e i danni, non ho parlato prima per brevità, ad esempio al sistema intergeologico, sta a dimostrare il Mugello in segna, che i maggiori danni all'ambiente arrivano dei tratti che passano in galleria. Io finisco riproponendo a voi le domande che ponevo all'inizio. Non ho intanto la presunzione di convincere nessuno. Quello che auspico è che i miei dati, anche noi osi che mi portano in qualche modo aiutino a porsi delle domande. Se chi magari non ha avuto la possibilità di approfondire alcuni temi, lo vado a fare, mostra che docenti, tecnici, per conto della comunità montana, hanno prodotto in questi giorni, è stato presentato nella conferenza stampa del discorso, un documento in cui risponde punto per punto ai quattordici punti del governo. Credo che l'ultima osservazione che faccio, e poi su altre questioni magari farò accenno dopo, che dobbiamo sempre ricordare che non ci sono finanziatori privati così pazzi da imbarcarsi in un'avventura, che prevede già che la gestione sarà fabbrica. E l'altra questione è che chi paga è la collettività, perché hanno parlato negli anni scorsi, adesso lo citano un po' meno, che il 43% sarà finanziato dai privati. Quello che non dicono è che i prestiti saranno fornite dalle banche, ma sono prestiti garantiti dallo Stato. Il meccanismo è questo, e chi sarà pagare, sarà noi, saremo noi, sarà la collettività, saranno soprattutto i nostri figli e i nostri amici. Il tema della democrazia, della militarizzazione, dell'annunamento degli spazi di democrazia, credo sia un'altra questione che ovviamente andrebbe a dire della ragione di questa serata. Grazie. 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 Looking. Grazie. 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 essendo un po' difficile immaginare che l'Unione Europea contribuisca con un contributo a fondo perso pari del 40% su un'opera della quale non riconosce il significato infrastrutturale che va oltre quelli che sono i collegamenti tra due Paesi. Seconda considerazione, è vero che oggi gli interventi riguardano sostanzialmente due tratti, uno quello della galleria con lo sbocco alla stazione internazionale Cusa e l'altro quello, il tratto che riguarda l'interconnessione con la città di Torino. Ma questo cambio di atteggiamento, io lo incontro all'intelligenza del lavoro svuoto nel corso degli anni perché significa, e proprio i dati che poi ha presentato lo testimone, che non si va a intervenire dove la linea storica è in grado di intercettare e di sopportare i volumi di traffico. La linea storica, ed è vero, è in grado tranquillamente di sopportare anche la crescita dei volumi di traffico delle merci previsti dal progetto e quindi sarebbe stata un'utubità madornale immaginare sostanzialmente di andare a creare un'infrastruttura in un livello, perché è non necessario. I due punti critici del collegamento sono rappresentati da una galleria che è stata costruita in epoca in quale, nel 1871 se non mi ricordo male, in epoca nella quale sostanzialmente non c'era il problema delle modalità che oggi hanno, trasporto di merci su rotaia, non c'era neanche il problema. Dobbiamo portare una risposta che è quello dei tempi di percorrenza, perché è una galleria che scoppa sostanzialmente una differenza climatica pare a oltre mille metri di altezza. È la galleria che non è in grado di sopportare questi volumi di traffico. Io sono invece assolutamente d'accordo su un punto che non necessariamente un'infrastruttura, la realizzazione di un'infrastruttura determina una inversione di utilizzo nelle modalità di trasporto dalla gomma alla rotaia. Su questo deve inevitabilmente intervenire una politica autistica che vada oltre quella della realizzazione di un'infrastruttura, che è tentativo, molto coerente, non tanto tentativo, scelte molto coerenti per evitare, per fortemente penalizzare il trasporto su gomma. È quello che ha fatto la Svizzera, è quello che ha fatto l'Austria, ha realizzato un sistema di infrastrutturazione in galleria che consente il trasporto della gomma e poi ha assunto dei provvedimenti che in alcuni casi sono di penalizzazione economica, in altri casi sono di divieto, sostanzialmente l'attraversamento delle proprie regioni attraverso il trasporto su gomma. Quindi nessuno è un illuso che la realizzazione di un'infrastruttura determini nel cambiamento un cambio del modello. Ci vogliono politiche trasportistiche, ma sulla realizzazione di queste politiche trasportistiche assolutamente credo che nessuno di noi sia in grado o voglia assolutamente sottrarsi. 3 ultime considerazioni. La prima è questa, sui dati relativamente alle conseguenze sulla salute. Il progetto preliminare che è stato accantonato prevedeva la realizzazione della galleria sotto il Musine. Il Musine è l'unica zona dove la consistenza è tale da contenere rendendo di sé sostanze pericolose per voi. Ma la galleria sotto il Musine è stata abbandonata in quel processo di adeguamento o di ricostruzione di un nuovo progetto teso sostanzialmente a evitare la logica del progetto iniziale. Il resto ha la consistenza geologica e anche la consistenza di presenza di materiali come hanno tutte le altre zone delle Alpi. Io voglio ricordare che in questi giorni è ancora la seconda tanda del traporto in play, senza che questo sia determinando nessun tipo di problema, nessun tipo di preoccupazione e nessuna particolare attenzione. Ma la consistenza geologica è la stessa, la presenza di materiali è la stessa di materiale. Io faccio un po' fatica a immaginare questa enfasi sostanziale a cui è affidato il tema dell'alta capacità. Il dato che tu riportavi, che è quello della forte crescita dei volumi di patico delle merci sul collegamento sud-ovest, è un dato reale. Oggi una delle grandi possibilità o una delle grandi opportunità sta nel fatto di evitare che i grandi flussi commerciali provenienti dai paesi dell'Europa dell'est, dell'Asia, possano a posto di arrivare ai grandi porti dell'Europa settentrionale, fermarsi nei porti italiani e utilizzare il trasporto ferroviario per raggiungere in modo più economico e più veloce i paesi di destinazione. Però se riconosciamo che qui c'è una crescita e poi ci si oppone anche all'analizzazione del terzo valico, a mio parere esprimiamo una politica che è contro sostanzialmente la gestione di opportunità di sviluppo per il nostro futuro. Perché io potrei anche capire, seguendo questo pezzo di ragionamento, l'opposizione che viene espressa per le ragioni che vengono richiamate sull'analizzazione dell'alta capacità dell'Unione. Ma se si riconosce che l'altro rappresenta comunque una infrastruttura che deve sopportare volumi crescenti di trasporto dell'emergenza, non sono ingrati, voglio dire, dalle linee esistenti. E poi comunque si è contrari anche all'analizzazione del terzo valico, la sensazione che qui cadiamo su un atteggiamento che è prettamente ideologico. Sono contro alla realizzazione dell'infrastrutturazione di un Paese indipendentemente dalla necessità che questa infrastrutturazione corrisponda o meno a un'esigenza. Posto, e io sono di questa opinione, che la Torino-Rione rappresenta invece un'esigenza. Anche i dati relativamente al passaggio delle merci dalla drogana di 20.000 che hanno una provenienza che non è certamente quella della Francia, hanno una provenienza che è quella della Spagna in modo fortemente particolare. Vogliamo continuare a giustificare a sostenere il fatto che proveniente dalla Spagna, proveniente dalla Francia, poco importa, il nostro modello è quello di immasporto dell'emergenza vendita su Roma. Perché se si dice sostanzialmente che da via passa le merci trasportate su Roma e si immagina che su cui non intervenire, significa che noi abbiamo criticato per 30 anni un modello di sviluppo del nostro Paese che si fondava sul trasporto su Roma e che oggi giustifichiamo questo modello di sviluppo del sistema di trasporto in su Roma. Quanto al consenso con le comunità locali? E chi chiudo per stare nei centri? No, no, ma a me sembra anche più utile poi che ragioniamo un po' tutti assieme rispetto a questi problemi. Attenzione, io non volevo offrire questo tema ma penso che sia anche uno dei temi su cui tentare attraverso questo confronto, peraltro assolutamente civile, di dover ragionare. In Val di Sulla il tema dell'alta capacità noi lo stiamo discutendo questa sera con opinioni diverse ma credo in un clima rispettoso della diversità di tutti. In Val di Sulla non si vive una condizione di perdita. In Val di Sulla chi è favorevole all'opera? In Val di Sulla le persone e gli amministratori locali che hanno cercato di, a parte il protocollo di placatinare, di spostare l'attenzione rispetto a interventi consistenti, tesi a modificare del progetto, teso a coinvolgere comunità locali, eccetera, sono stati marginali. Io ero consigliere giornale nella presente legislatura, ma Antonio Trentino che era il presidente della comunità montagna e che era uno dei più stremi oppositori relativamente alla realizzazione dell'alta capacità di Tornorione, il protocollo di placatinare, quando è stato, assieme ad altri amministratori locali, nell'atteggiamento di dover cambiare, perché erano cambiate le condizioni e le carte in tavola, finalmente erano cambiate. Tante mangi. Oggi gli amministratori comunali, oggi in Val di Sulla si esiste a un elemento assolutamente dedicato sotto il profilo della convivibile democratica e anche della coesione sociale. Sono spaccate tutti i giorni. Ci domandiamo perché? Io una risposta ce l'ho, perché c'è chi questo tema lo sta affrontando sul piano della legittima contrapposizione di opinioni, progetti e atteggiamenti molto opposti e c'è chi sta cavalcando questo tema sul piano che non è assolutamente quello del confronto democratico. E chi non sta all'interno di queste regole usa tutti i sistemi per immaginare le persone. In Val di Sulla gli amministratori locali che sono favorevoli o perlomeno che non sono contrari all'alta capacità Tornorione devono dire scortati. Allora, quando si ragiona rispetto al coinvolgimento delle comunità locali, ragioniamo rispetto alle condizioni di convivenza civile che Val di Sulla si sono determinate. Dopodiché io, sia ben chiaro, voglio essere anche chiaro su questo punto, io non ho la convinzione di assegnare a tutti coloro che sono contrari alla realizzazione dell'alta capacità Tornorino-Lione la patente delle persone che sono fuori dal contesto democratico. sia ben chiaro, non è questa la mia opinione e il mio atteggiamento, ma cerchiamo anche di riconoscere dall'altra parte, sull'altro versante, che oggi comunque quella condizione c'è e che all'interno di quell'area territoriale non sono i sindaci a dettare le agende, i tempi e la scansione degli avvenimenti sono altri soggetti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 riferimenti alla criminalizzazione eccetera, ricordo che in quanto scorta di chi non è favorevole, ci sono diversi notabili assolutamente scortati che dal 26 giorni sono in prigione, credo che ci sia stato un dibattito i giorni scorsi con un magistrato in quale senza garare le responsabilità di alcune persone, credo che sia l'opportunità e necessità di questo tipo di intervento cautelare. Il container, dicevo che parlo dalla fine, la Spagna, io non ho detto che siccome verso la Spagna a 20.000 passano molti camion e c'è molto traffico che si deve andare così, ho detto che diffuginare il traffico che va verso la Spagna e passa da 20.000, basta guardare una catena geografica, venga dirottato a nord verso Torino, vada l'espa, questo è detto. I container, i container moderni non sono un problema per la linea attuale, per 400 milioni, qui c'è qualcosa veramente di, ci sono anche degli annetti di danno, ci sono degli annetti su per perdersi. Le dimensioni dei container sono tali, dopo gli ultimi modifidi che sono costanti a 400 milioni che consentono la circolazione dei container, ci sono in realtà delle limitazioni per i grossi container che viaggiano sopra i cani, così detto fairytage o autostrada alpina. Per un altro metodo fallimentale che pur assistito dallo Stato ha visto un fallimento non soltanto su questa tratta ma anche in diverse tratta in francia. Ci sono stati degli errori costruttivi soprattutto sull'atto francese che non hanno consentito ancora un collato per problemi di sicurezza, se volete poi dopo vi racconti. Ma il grosso ostacolo alla circolazione dei grossi container doppi non sono nel tunnel verso Torino-Modagne, sono in tutta la linea da Genova in su e sono anche nell'altezza delle linee elettriche. Per esempio negli Stati Uniti le merci che viaggiano a una velocità commerciale di 30 km all'ora non hanno linee elettrificate. E quello è il suo nonostante. Ma vado velocemente avanti. L'amianto e la modifica del percorso. Ricordo che la modifica del percorso non è stato frutto del confronto nell'osservatorio, è stato frutto di una posizione che ha portato a Rinaus nel 2005 e nel successivo. Ma da una parte abbiamo ridotto, non annullato l'amianto perché nei primi 400-500 metri dello scavo da Susa è previsto che ci sia una roccia ambientifere per portare via le quali con le cautele dentro sacchi di plastica. Sono previsti non solo la circolazione di quanti treni verso Prazza, Piemonte, Montanaro, 140 treni di notte che viaggiano di notte. Certo il problema di quanto si è ridotto, si è aumentato quello delle risorse elettriche, del sistema delle sorgenti. Non vi cito i dati, non l'ho fatto prima, per dimostrare quante sorgenti si sono prosciugate nei lavori che decidono prima nei 40 anni per il raddoppio della ferrovia della nuova autostrada della centrale di Piemonte. La linea storica è di montagna e quella nuova sarebbe in pianura. La linea storica ha mille metri di sviluppo, quella nuova ne ha 500, non è proprio di pianura. Cambia 500, ma sulla pendenza viene detto per la linea storica nel documento è del 33 per mille, non è vero. La linea storica ha una pendenza media del 18,6% e il massimo raggiunto per 3 km su 48 è del 31, del 50% della linea e al di sotto del 16%, non è del 33%. Il primo punto che ha toccato, non è l'ultimo, è il contributo di lavoro. Anche il documento del governo parla di 40 miliardi che l'Europa potrebbe erogare. Ora, l'Europa ha 3 progetti prioritari, per questi si le finanzierà. Deciderà, non ha deciso come e quando distribuire la torta, ma lo deciderà tra 12 e 15 mesi. Il commissario di trasporti Simcaulas ha detto che la torta disponibile, chiamiamo la torta, al momento di 8,1 miliardi potrebbe arrivare a 31,7 miliardi. Questi 31,7 miliardi saranno distribuiti tra i 30 progetti e nulla sta a indicare che la linea di Torino e Lione dovrebbero rendersi 3,3 miliardi e quindi ben al di sopra di quella che potrebbe essere la linea. Quindi è un'ipotesi. Potrà prendere il 40%, ma è un'ipotesi che si potrà verificare soltanto tra alcuni anni. Io voglio, per chiudere, raccontarvi una piccola, vuol dire, non è una storia, è un dato vero, ma si collega a quanto stiamo dicendo. C'è ancora due minuti. Nel 2007, l'amministratore, il loro amministratore delegato delle Ferbie Moretti e il Presidente Cipolletta si presentarono, scusa? Si presentarono all'ottava commissione del Senato per relazionare sui costi dell'altra velocità. Era un costo per chilometro di 32 milioni di euro a chilometro. Qualcuno chiese come mai in Spagna erano 9 milioni per chilometro e in Francia 10. Moretti non si scompose e disse che 21 miliardi di differenza erano dovuti a una diversa geografia, alla sismicità del territorio, a una diversa antropizzazione, a diverse caratteristiche progettuali. 21 miliardi di differenza. Prendiamo le due. 21 più 9 fa 30 e siamo vicini ai 32. Però qualcuno si apporse che i conti erano un po' taroccati. Per fare un costo medio per chilometro bisogna prendere il costo complessivo per chilometro, elementare si direbbe. Allora in quell'occasione il conto era stato fatto così. Prendiamo i chilometri totali e dividiamo per un costo minore. Nel senso che quando noi abbiamo ad esempio di una tante alta velocità tra Torino e Milano, consideriamo il nodo di Torino che arriva fino a qualche chilometro a dopo Torino, diciamo a settimo, la tratta a settimo la periferia di Milano e poi il nodo di Milano. Bene, avevano considerato il costo soltanto della tratta nei chilometri, così la differenza è da 32 fino a 34. Poi qualcuno si accorse che avevano considerato solo la tratta, Frenze-Roma, che non c'entrava niente con il progetto di alta velocità, già stata realizzata precedentemente con criteri diversi, più tradizionali. Alla fine questi 32 milioni erano diventati 34, diventano 55. Poi qualcuno si accorse che mancavano tutto il conteggio degli interessi intercalari legati ai prestiti nella fase di costruzione e questi 1555 diventavano 63,4 milioni a chilometro rispetto ai 9 della Spagna e ai 10 della Francia. Ora, perché ho raccontato questa cosa qui? Perché questa, come dire, superficialità, indifferenza, diamogli il nome che vogliamo, malafede, si ritrova purtroppo negli stessi atteggiamenti estiani. Ai tempi di Moretti presentato nella Commissione, all'ottava Commissione del Senato nel 2009 Prodi, prima c'era stato Berlusconi e poi ci fu di nuovo Berlusconi. Non è cambiato niente. La disincoltura con cui presentano i conti taroccati è la stessa. Allora la cosa che io mi faccio è l'esigenza che, prima, anche quella che è stata espressa in questi anni dal Movimento Ottav, è che si facciano i conti giusti, semplici. Sulla questione, finito veramente, adesso sulla questione, diciamo, delle tradizioni anche di lotta e di resistenza del Movimento, il movimento è, vuol dire, è plurale e è aperto. Ma ha un punto fermo. Si rifà dei valori antichi. Ai valori della resistenza. Ai valori della resistenza che ha visto Navarro di Susa importanti momenti. E ha visto anche sui anni successivi di lotte operarie molto forti. E in cui è nato anche, non è nato ma, diciamo, è stato significativo il Movimento Non Violeto. La fabbrica Moceniso, di cui avrete sentito parlare, è stata la prima fabbrica in cui un consiglio fabbrica si è opposto alla costruzione delle armi e richiestrano di conversione. In questa fabbrica c'era un operario che si chiamava Achille Croce e un prete, Don Biglone, che in qualche modo il prete, oltre alle preghiere, parlava dei diritti dei lavoratori, dei diritti all'informazione, dei diritti allo studio. Ecco, in questo contesto, che oggi si inserisce anche nella resistenza della valutazione contro l'Italia, per finire l'azione di Dossetti. Dossetti che avrebbe voluto mettere nella Costituzione questo semplice articolo. Poi non è stato fatto, ma c'è stato un dibattito tramore anche italiano. La resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti della Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadina. Nessuno sta facendo questo, sta attuando la Costituzione. chiederei un applauso a entrambi i redattori, per la puntualità e anche la passione degli argomenti che nelle parti ci sono state portate. Adesso direi che è il momento del dibattito e del confondo. Non ci sono scusanti, come vedete nessuno sull'addosso, non c'è lacrimogine, neanche il rilancio di lacrimogine. Proprio nella conferenza che ricordava il punto di inizio di gioia di scorso con Lillo Pepino abbiamo visto che è assolutamente sconsigliato il rilancio perché ha tutte le conseguenze giuridiche, non da poco in questa situazione, ma da tutta parte adesso sta a voi il rilanciare il dibattito e la discussione. Mi prendo solo, non faccio una domanda, ma solo un don'informazione in più, visto che il tema è stato evocato e come antico portavoce del movimento notire valostano mi sembra impossibile resistere a questa intenzione. Si è parlato del raddoppio del tunnel del fregius. Ecco, don'informazione che è utile secondo me anche per avere un'idea di come il governo, i governi che si succedono su certi temi e me sono anche difficilmente credibili perché poi parlano con lingua biforputa. la galleria, la doppia della galleria del fregius parte come galleria di sicurezza, tema tratto da qualità anche per la Valle d'Aosta perché in maniera ricorrente anche sul nostro tunnel del bianco ci viene trovato da Rolandeno, da altri facciglieri, caveli, eccetera, la necessità di un tunnel di sicurezza. Alla fregius ce l'hanno fatto, hanno proposto, hanno approvato questo tunnel di sicurezza. Neanche il tempo di finirlo, la società di gestione del tunnel del fregius, neanche il bianco, propone di utilizzare il tunnel per il tricolare. Fatti, casualmente aveva le stesse dimensioni, la motivazione addirittura è spendiamo questi soldi ormai, visto che li abbiamo spesi. Riflessione. Allora, voglio la parola però adesso, per me, non siete timidi. Grazie. 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 Buonasera, io sono Berardi Marco, segretario regionale di Italia dei Valori. La mia intenzione, l'ho detto anche a mia moglie stasera, meno mai che non devo parlare, me ne sto buono buono a sentire le cose molto interessanti che dicono i due esponenti. però il consigliere di Repidimi ha tirato per la giacchetta parlando di Coe Renza dell'ombrevole di Pietro. Mi sembra evidente parlare che quando si parla di Coe Renza si deve fare un discorso generale. Mi sembra strano sentire parlare di Coe Renza, un partito che fino a due mesi fa era all'opposizione e adesso è alleato del PDL e sta affamando i pensionati, gli esori, dati e l'articolo 18 farà la fine che farà. Quindi se si parla di Coe Renza, si parla di Coe Renza più non in fondo, sempre senza spaccatura internet partito. E soprattutto la prostata non è una maggiata indietro ma uno stop, è una moratoria in quanto di fronte ai dati molto interessanti anche dell'esponente del No Tavo, al fatto anche che la concertazione come in Francia si fa prima e sentire invece un esperimento del governo Monti che dice, si di solito si fa prima, questa volta noi non l'abbiamo fatto con le popolazioni, la faremo poi prossimamente. quindi sentire tutte queste cose ci è sembrato evidente, visto che noi i cittadini li consideriamo cittadini e non subiti da trattare a mannellate, è il momento di fare una moratoria, di pensare di avere una commissione europea indipendente che rivalti un po' di vent'anni, considerando anche altri progetti, tipo la variante di Genova dove sembra che addirittura la popolazione stessa voglia invece quella barrenante. Quindi assolutamente questo dibattito è molto interessante anche se, ripeto, sono stato attirato per la giacchetta, mi ne sarei stato più tranquillo nel suo lungo e nella mia sedia. Grazie, direi di raccogliere un po' di interventi così lo facciamo, vada senza assoluta regola, più bene ci sono gli interventi, più sono le domande. Se posso ne fare due, se no. Una è una considerazione che mi è arrivata nel disco Carpeggio che ci è sempre tornare alle questioni. Inoltre vorrei far notare che io vengo informata da una mailing list di ex deportati che sono tutti molto interessati alla questione e passano tutti i documenti che lui anche ha citato, quindi sono molto documentati anche loro. Per dire che ho visto una faccia strana quando mi aveva fatto una faccia un po' strana quando lui faceva l'accenno alla resistenza e ai valori della resistenza a cui la Tav si... e anche nell'ambice è stato un dibattito a questo proposito che sarebbe interessante di proporre. Comunque la successione è questa, da tutte le parti in Europa e anche in paesi estereuropei dove è stata fatta l'alta velocità, questo non ha comportato una decisione delle linee tradizionali, cosa che invece in Italia sta avvenendo, cioè in Italia si sta facendo una velocità e si sta buttando, scusate, nel cesso tutto il resto del servizio ferroviario, quindi vale da osta la vicenda la conosciamo bene. L'altra questione che qui la domanda è per tutti e due naturalmente, quindi ci sono delle considerazioni delle deduzioni da trave. L'altra domanda invece è sulle politiche trasportistiche che nessuno ha mai fatto, quelle di richiedere di passare da GOM a Rotaglia, che nessuno ha mai fatto, si possono fare, si possono fare. Allora perché non cominciamo a fare delle politiche trasportistiche riempiendo le linee tradizionali che abbiamo, le linee tradizionali, mettendo su merci, disincentivando la gomma invece di incentivarla, come facciamo adesso, cominciamo da lì. Poi discutiamone, insomma, poi sono aperta al dibattito, però mi sembra che ci sono delle cose che vengono prima, no? Allora, io vi ringrazio, grazie a tutti perché nelle vostre esposizioni aumentano sia le convinzioni rispetto ad alcuni argomenti, sia le domande, rispetto ad altri aspetti, approfondiamo quindi le cose e intanto tutti insomma un po' insieme cresciamo nella consapevolezza di quello che sta succedendo. Vorrei dire che per essere notave basta essere onesti e informati, per essere protave basta essere onesti e informati. quindi alla fine lo scopo, l'obiettivo, l'oggetto di questo incontro era appunto cercare di essere entrambi e tutti noi onesti e informati e poi scegliere. Non c'è corrispondenza diretta, no? D'essere onesti e informati ed essere contro. Infatti io penso di essere abbastanza e oggi sicuramente stasera più informato, questo sicuro non lo so, se non mi sia riconosciuto, di essere più informato di quanto non lo fossi ieri, ma anche con tutto il rispetto di essere un po' più convinto stasera della volontà della scegliere con forza la necessità di ammodernare le nostre infrastrutture. Cioè il futuro non può essere un futuro negativo, perché quello che mi pare di comprendere dall'insieme delle argomentazioni intorno a questa opera che sono state adotte in senso negativo sono argomentazioni relative all'oggi, relative alla prospettiva intorno a un'opera molto importante, molto importante, molto incidente sulla vita sociale non solo della Valsusa ma anche del Piemone e anche del Nord Italia e del paese intero, quindi che ha necessità di essere dibattuta lì, abbiamo scritto nel comunicato stampa, è un'opera decisa ma non risolta proprio perché è dibattuta ancora forte e quindi ha necessità di essere risolta nelle coscienze, nelle consapevolezze democratiche delle persone, dei cittadini, di tutti i loro, ma allo stesso tempo possiamo scegliere, non credo, non mi rassegno all'idea, possiamo fare un'opera pubblica perché siamo incapaci, perché c'è troppa criminalità, perché abbiamo gestito male le opere pubbliche fino all'altro ieri, perché la desa e la sinistra sono uguali, perché io non mi rassegno cittadino, non da esponente politico, non mi rassegno a pensare il futuro di questo nostro ma diciamo così a una non visione, per quello lo chiedo a lei, lo chiedo anche a Aldo, ovviamente va bene, ma l'alternativa, ma quale futuro immaginiamo? È la decrescita nel senso del non sviluppo? la decrescita nel senso del non sviluppo io non sono d'accordo, né la crescita sostenibile né la qualità dello sviluppo io credo che sia importante che noi ragioniamo anche sulle infrastrutture e che il fatto che ci poniamo a mano, accettiamo il fatto che l'Italia è molto indietro rispetto sulle infrastrutture, sulla nostra capacità di connessione, di interdipendenza, tra l'altro io ho una visione positiva della globalizzazione quando è interdipendenza, quando è la capacità di immaginare il nostro futuro insieme agli altri futuri, è la grande scommessa dell'Europa è questa l'Europa, è immaginarsi insieme, io non credo che noi possiamo continuare a pensare che la soluzione possa essere una sorta di localismo e anche qui esiste, è necessario dare una risposta, e ho finito, democratica, anche all'idea che se l'opera pubblica ha un'importanza per l'intera comunità nazionale, non possa essere accettabile la sindrome del non nel mio giardino, possa essere una scelta democratica, deve lì la discussione, deve esserci l'approfondimento e credo che non si possa negare che questo progetto non sia fortemente cambiato nel corso degli anni, anche per, come dice lei, come dice Ando, per effetto di una condivisione democratica e di una concentrazione dura o meno che fosse stata, ma allo stesso tempo non credo che non si possa accettare che una minoranza decide per la maggioranza. di una condivisione democratica. Anche voi farei paure, però uno, il musione di spot, questo mi hanno fatto. Sì no guarda, io vado molto secco, purtroppo ho perso la capacità di sognare e sono molto pessimista, e non dico un po' con l'onestà, e quando sento parlare di Moretti e di l'agenzia cipolletta, mi vengono i brividi, letteralmente. Allora, io ho fatto un soldo e un getto e ho trovato un briefing paper di un signore che si chiama Andrea Boitani, professore dell'agenario dell'economia e politica verso l'Università Cattolica di Milano, Marco Ponti, professore dell'agenario dell'economia e trasporto e politica di Milano, Francesco Ramella, ingegnere dei trasporti e, cos'è? Aferro, IBL, IBL è l'istituto Bruno Leoni che è un think tank, se no non siamo alla moda, ultraliberista, cioè quelli che dicono dell'articolo 18, questo è un po' lì rossomente, perché non lo so, facciamo le scuole più d'arte, più latinizziamo tutte le cose, questa è anche qua, alcuni titoli dei loro documenti sono veramente apprezzanti, ma a proposito della data, dicono, la linea a Vittorino-Lione è il consenso che sono più anni nel mondo politico di quello imprenditoriale, il consenso che è un pessimo segnale sulla irresponsabilità delle scelte di spesa. I benefici dell'opera sono in grano lungo e inferiore ai costi e nessun privato è disposto solo a finanziare l'apparente sia vero. Le ricadute ambientali saranno moltissime e la linea a Vittorino-Lione rimane quasi eserta, a meno che non abbiano gli imposti di vieti a trasporto su gomma, non l'interzione di vieti. La politica del finanziamento pubblico da ferrovia ai fini dell'eurocolismo modale, oltre che inefficace, è iniqua, salicando sul contribuente il costo di ritenimento altrui ed è quindi ospitabile. Cioè, questi che sono abituati a ragionare in termini in quattro anni i costi e i benefici dicono, ma neanche di strisce, perché sono cose di questo genere. Ecco, io impongo questo quesito dell'attenzione dei contori. Primo giro di risposte direi. Allora, andiamo in ordine come volete voi. Ma sulla prima domanda, la dismissione a livelli nazionali è perfetta delle scelte sulla tecnologia che sia sotto gli occhi di tutti, le condizioni in cui il viaggio in pendolari credo che siano una questione strettamente connesse. Sull'alta velocità Torino-Milano viene attualizzato, mi sembra, dal 0,1% dei viaggiatori che usano le ferrovi dello Stato, ma magari credo sono del 99%. Che sia possibile attuare delle politiche di incentivi e di incentivi da subito? Sì. Ed è possibile anche trasferire delle merci su treno. Si chiede oggi che questa linea, ad esempio, debba essere a altra velocità, debbano trasportare tante merci, ma non mi risulta, ad esempio, che problema si può perché, che so, da Torino-Milano. Avete visto quando il TIR circola tra Torino-Milano? Qualcuno ha posto male il problema, o si è posto come obiettivo il fatto che una parte di questi TIR li essero messi su treno, o le merci sul treno e viaggiassero, intasando meno e consumando meno e consumando meno le zone ecc. e quindi ovviamente credo che questi posti siano assolutamente condivisibili. E sulle questioni che parla, Fabio, nelle ragioni e nelle motivazioni che ho portato, io credo che tutto si possa dire, che non siano localisti, ma non ho parlato della perdita di valore dei terreni, attraversata la ferrovia, delle case che crollano in valore, non ho parlato di, se non di sfuggita alla fine di danni al salute, di danni all'ambiente li ho citati, ma tutto sommato sovolato, ho posto una questione che, meno che localistica, meno imbidi così, non può essere. L'intervento prima parlava di alcuni economisti. Marco Ponti, che è uno di questi terreni, che ha collaborato, ha lavorato per la Banca Mondiale, dice, se il Vansusil, se quest'opera avesse un senso, i Vansusil dovrebbero starse zitti e tranquilli, perché, dice lui, io sono tutt'altro che notario, io sono per cui scelte, ma questa opera è insensata. Se io avessi presentato questo progetto alla Banca Mondiale, testuali parole di Marco Ponti, sarei stato licenziato all'istante. Io ho posto un problema di rapporti di analisi costi e benefici. Quella analisi costi e benefici, che dall'economista Monti, il tecnico chiamato a ridare il paese che Romano diceva che non sapeva fare, questo tecnico della Banca Mondiale dice che l'analisi posti e benefici verrà presentata, ma quando mai si fa un progetto e non si presenta prima l'analisi costi e benefici? Allora, io posto queste progetti qui, francamente non credo c'è una visione, come dire, negativa del futuro. Cosa c'è di negativo nel rifiutare una roba che è inutile e che costa troppo e non ce la possiamo permettere? Non credo ci sia niente di negativo. Non credo di essere stato negativo in questo senso, anzi, mi indico con l'orgoglio di rifiutare un qualcosa che non mi porta da nessuna parte e rifiuto con orgoglio il fatto che venga negato, certo, una comunità. Una comunità che vuole decidere del proprio, ma non solo del proprio futuro. Perché anche soltanto sul piano dei costi che le ricadute siano un problema per tutti gli dati, che per la tutela dell'ambiente siano un problema di tutti, la distrazione di risorse è un problema di tutti. E credo che in molti ci sono accorti in questi anni, dopo aver accusato l'evento nibi del movimento natale, siano accorti quanto poco nibi questo sia e quanto questa loro resistenza si inquadre nella più generale lotta in difesa dei beni comuni. Questo è, certo, ma tutti lo condividono, non ho la pretesa che tutti lo condividano, ma credo che nelle cose che ho detto ci sia ben poco di... sul fatto che l'Italia è indietro in Europa, eh sì, ci stiamo avvicinando alla Grecia. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 del popolo e della libertà in questa esperienza di governo, nasce su altre basi, nasce però non affrontarlo questa sera perché ci potrebbe molto lontano, dico e ribadisco questo concetto che trovo molto strano che il giudizio su questa opera venga espresso a seconda della collocazione di una forza politica o in un'esperienza di governo o in un'esperienza di opposizione. Sotto questo aspetto io credo che il Partito Democratico, dentro il quale in Val di Susa e non solamente in Val di Susa, o vivono anche anime e sensibilità che sono contrarie all'analizzazione di quest'opera, ha meno la pretese di esprimere una cultura di governo indipendentemente dalla propria collocazione in quel momento. Torno brevemente rispetto a una questione, ditemi tutto, vi prego solo non fatemi passare come il difensore di Moretti o di Cipolletta perché tutto ha un limite anche dal mio punto di vista come mia capacità di accettazione, vorrei ricordare che Moretti è uno delle persone che nel corso di questi anni ha artefatto molte volte i propri comportamenti perché il suo obiettivo fondamentale non era l'entrato dell'altra capacità Torino-Lioni, ma il suo obiettivo fondamentale era lo spostamento delle risorse sul nodo di Milano e questo lo ha dimostrato in tante e tante circostanze. Io vi prego però di riflettere su due questioni, la prima è questa, ci possiamo domandare una volta perché in Francia la realizzazione dell'altra capacità è sostenuta dalle organizzazioni ambientaliste in Italia, no no è così, è così scusami, è sostenuta dalle organizzazioni ambientaliste in Italia e viene vista come un'opera contro l'ambiente, ci possiamo domandare sotto questo aspetto e magari ritornando a una logica che certamente non, a un ragionamento che non finisce con l'analizzazione di una infrastruttura, ma ha bisogno dentro di sé politiche trasportistiche molto chiare, che però possono realisticamente essere messe in atto quando le condizioni, almeno del trasporto su ferrovia, sono similari a quelle del trasporto di Roma, in termini non solo di compatibilità di costi ma anche di efficienza del servizio o di condizioni del servizio, io sono veramente convinto che questo Paese debba adottare politiche trasportistiche molto forti e molto chiare, che scoraggino il ricorso del trasporto fu su Roma. Devo anche dire che oggi immaginare che il trasporto che però questa scelta debba riguardare possa riguardare tratti limitati è una più illusione, anche a me fa tristezza che tutte le mattine faccio il tratto di accompagnamento dell'autostrada che appianca l'altra capacità Torino-Milano, vedere la limitatezza dei coinvolgi che passano su quella linea, è immaginabile che però il livello di interconnessione gomma-ferrovia venga su 100 km e poi dopo deve riprendere il tratto su gomma e conseguentemente, questo non è quello che succederà in Maltisusa assolutamente, perché quel tratto lì si girerà con quella dimensione dell'alta velocità realizzata Torino-Milano. In Maltisusa, finita la gara, il tratto a Susa con la stazione internazionale che a questo punto sarà a Susa riprenderà la storica, ma non vuol dire sostanzialmente che i merci scendono, scendono dalla ferrovia e salgono sui camion sostanzialmente. oggi le condizioni, parliamo di un progetto che ha una sua strategia, ma che deve essere realizzato nel corso del tempo. Sul piano dei costi io sono e voglio dire che proprio come gruppo consigliare della regione abbiamo riposto all'interno dei nostri documenti il tema della confrontabilità dei costi di realizzazione rispetto ad altre esperienze. Su questo, che questo tema va attentamente valutato, che le analisi sul piano dei costi fatti da Trenipaglia nel corso degli anni sono state analisi proposalmente superficiali. Aggiungo che va anche garantita il massimo della trasparenza, il massimo di allontanamento dalla realizzazione di quell'opera dei cantieri, di fenomeni malavitosi che oggi stanno o hanno caratterizzato, legasi alcune recenti indagini compiute anche dagli ordini di informazione, la realizzazione di grandi infrastrutture e quindi su questo massimo di attenzione, massimo di vigilanza e massimo di inaspirimento delle disposizioni di legge e dei controlli sotto questo aspetto, perché questo Paese deve anche abbandonare la logica per cui la realizzazione delle grandi infrastrutture deve sempre avvenire accompagnata da fenomeni che con il rispetto delle leggi e della legalità nulla hanno a che questo nessun tipo di conciliazione mia e da parte del Partito Democratico. Torno bellissimamente su una considerazione su cui ho fatto quella espressione leggera, leggera ma adesso in prima fila lo peccato, si confessano i peccati le cose e poi si chiede la soluzione insomma una verità. Lo dico così, il rispetto per la diversità di conti, io mi aspetto però anche una non assolta da alcuni comportamenti che all'interno della Valle di Susa si sono registrati nel corso degli anni. Io fratica ad accettare il fatto che a volte ci sia un'eccessiva giustificazione dei comportamenti che con il diritto alla protesta, la salvaguardia della possibilità di pensare diversamente e di poter esprimere attraverso le forme dell'agocrazia nulla hanno a che vedere. Io ho visto ancora nelle ultime settimane comunicati stampa nei quali quella truppa siccome era stata assalita, è stato detto che il mezzo non era riconoscibile, è stato scambiato per un mezzo della polizia. Non è la giustificazione di questo, per cui la polizia si possono fare questi comportamenti e con gli ordini di comunicazione non si possono fare questi comportamenti. Lo dico perché attenzione, troppe volte nel passato la sottovalutazione di questi episodi o una non presa di distanza a sufficienza o una giustificazione in nome di cause giuste, di comportamenti sbagliati, cause illecite, di comportamenti sbagliati ha portato questo Paese in una condizione di qualche difficoltà. Mi chiamo Paese, non sono molto abituato a stare qua perché sono da qualche anno che ci sono in vallo. Sono venuto perché sono venuto in dubbio, come tutti in modo da ricerca e devo dire che quello che mi aiuta a capire e per cui sono ancora in dubbio dopo questa serata, forse ancora di più, è che tutti e due i signori fanno un errore di fondo, danno delle cifre che sono giuste e riguardano una verificazione strategica, ossia come si fa a vedere in un futuro produttore, e nessuno vuole la palla di vetro, questo immagino poi se ce l'avete tirata da fuori. La mia esperienza di benificazione strategica, hai il padre di stare tanti anni fa, ma è stata forte, fa vedere che quando si fanno progetti in questa città da 20 anni, quello che tira fuori il capo del modello, e la modellistica dietro, risponde a una visione del progetto, quindi è una posizione ideologica, tra virgolette, e non tecnica, e poi si circonda di cifre che è la fondamentale tecnica. E questo è così, in tutte le cose, cercare di ricondurre questi numeri che sono tutti veri, ma che bisogna vedere questo stato di calcolato, cosa c'è a fianco, la modellistica, le primezze, e così via, che è non banale, perché poi non lo tira fuori quello che botte da fuori lui. Ma questo senza nessuna moda, vedete, lo sto parlando, è un fatto così, i modelli strategici si fanno in questo modo e hanno questi difetti, chi si occupa di queste cose lo sa, e li prende con le molle. Quindi quindi devo dire questo, e però vuole dire che, quando Cristoforo è partito, se faceva i conti non gli dava le carabelle, questo è sicuro. Poi, non sto bene fatto male, sta a noi il tipo, però la regina, sapeva, non gli le dava, perché non gli stavo in tutto. Poi, aspetta, andava in Giappone, poi scoperto la merda, perché queste cose qui vanno tenute dal cosi, bisogna riprendere la dimensione politica, se questo confronto non va fatto sulle scelte, su che frutti li immaginiamo, e poi dovremmo essere capaci di portarlo avanti bene. Perché è chiaro che se facciamo i conti dei costi italiani e i costi spagnoli, dovremmo vedere come lavora gli spagnoli, come lavora noi, come lavora noi. Se prendiamo il costo, i secondi dati, che dice che sui treni costano 18 euro, quando la Svizzera, con la precisione, la Svizzera costano 7, allora capire che tutto è sbagliato. Però questo non possiamo fare a presupposto che non siamo capabili per nulla e che lo rendiamo via a casa, tutti quanti. Grazie. Allora, io volevo dire innanzitutto al proprio dottore Schinia che è vero che c'è un atteggiamento diverso delle associazioni ambientali in Italia e in Francia, è anche vero che in bocchi diversi ci sono atteggiamenti diversi, diversi questioni. Tanto, quando la famosa lotta stop by pier, c'eravamo noi, c'era anche Alex e c'era un movimento francese, un movimento francese molto, molto più forte di noi e molto più radicato, proprio le popolazioni. Io mi ricordo quando noi andavamo in là alle loro manifestazioni, tornavamo qua e ci facevamo la piagina, perché dicevamo noi siamo 500 e loro siamo 5.000 in quel senso, Alex, no? E l'altra cosa che poi volevo dire è che a me risulta, da cose che ho letto, tra l'altro che attualmente la Francia sia molto meno monolitica rispetto al Taule, cioè oggi come oggi la Francia non è più un progetto più in Italia, mi risulta, per cui su questo bisogna anche fare chiarezza e comunque su questo credo che vada anche detto che è stato ricordato anche all'interno, se non mi sbaglio, di entrambe le relazioni in quanto a pagare il proprio prezzo per la politica dei trasporti, che la Valli Susa ha dato e come si è dato, è una valle stretta che come hai stesso ricordato è percorsa da un'infrastrutturazione di peso e di tipo notevole, questo è quello che lei diceva. Invece a lei, io vorrei chiedere una cosa, capogruppo Nischini, non come legabiettino, ma come donna di sinistra, anche se so che pare persone, direi che si fanno la stessa domanda e ce la siamo fatta anche tra noi, accadendo al congresso a Bari, di recente. In apertura della sua relazione, lei ha detto una cosa molto giusta, che io ho compito pienamente. L'errore di Vaz è stata la legge obiettivo, ma questo non vale solo per roba di scusa, vale un po' per tutta la stazione delle grandi opere in Italia, perché quella roba lì è una sciagura, tende a militarizzare tutto, è una cosa che ha assolutamente creato delle enormi tensioni. Però allora se lei, su questo siamo d'accordo, perché lei ancora adesso, vedo che, mentre io dicevo questa cosa, mi faceva anche la testa, ma allora perché il Partito Democratico accetta oggi la perizzazione della Val Sousa? Cosa c'è di diverso? Porta ancora molte più tensioni, è passato il decreto orientale qualche giorno fa in Parlamento, io non ho almeno, o forse non ho letto i giornali, ma non ho, se io mi sponente del Partito Democratico, alzarsi e dire tutto quello che volete, ma non si possono mandare le truppe in Val Sousa, non si può militarizzare il territorio. Concludo dicendo che questa cosa della zona strategica, e questa è una cosa molto grave, su cui proprio invito il Partito Democratico a fare un'espressione, perché è una cosa che a me, personalmente, come persona di sinistra, pone veramente un grosso problema, e mi solleva molto stupore, nella conferenza delle scuole settimane, che è stata ricordata prima, il giudice ci ha spiegato poi che cosa significa a livello di cambiamento del normativo, una cosa del genere, cioè una zona di chiara strategica è una zona dove di fatto una cosa commessa durante una manifestazione, faccio un esempio stupido, che poi non so nemmeno se è attendibile il classico lancio dell'uovo, del Pondero Marcio, che in un contesto normale non è reato, al limite, poi, che cazzo una buf, o magari una denuncia a piedi liberi, finisce lì, diventa tutto ciò che non è reato grave, diventa reato grave, cioè tutto caldo, e quindi tutte le tensioni si aumentano e si alzano ancora in più, e quindi, ovviamente, vi chiedo come faccio il Partito Democratico, che da una parte dice la legge obiettivo ha rappresentato un grosso stavolo, oggi però c'è parlamentarizzazione, adesso è una contraddizione insanale, sulla mia opinione relativamente dalla legge obiettivo, l'ho detta e la rivalisco, non ha aiutato la costruzione di un percorso corretto pensare che attraverso il superamento del confronto con le comunità locali, con tutti i soggetti, sia di per sé questo lo strumento di Grimaldella attraverso il quale io faccio in fretta l'opera, anzi, si è dimostrato esattamente il contrario, voglio ricordare che proprio contro l'utilizzo della legge obiettivo il ministro Gersani ha risolto alcuni nodi su alcuni tratti dell'abita, non usando la legge obiettivo ma usando lo strumento di confronto con le verità. Seconda questione, il PD non ha chiesto la mediterranea di scusa, ci sono stati, ci sono stati, due parlamentari del Partito Democratico che hanno, sono opinioni assolutamente rispettabili e non sono però le posizioni ufficiali del Partito Democratico, anzi, vorrei ribadire un concetto che il tema dell'analizzazione dell'altra capacitato dell'Unione non può essere affrontato e il profilo dell'ordine pubblico come scelto, come strumento attraverso la presenza costante delle forze di politica ma perché questo avvenga ma perché questo avvenga occorre dall'altra parte scusate che ci sia un livello di protesta e non c'è stata solamente testa democratica all'interno della Valle di Susa perché all'interno della Valle di Susa si sono vliuppati degli episodi e c'è stata anche una concentrazione di movimenti che non sono gli abitanti e la popolazione della Valle di Susa che non sono no mi lascia finire che non sono solamente le persone che con l'automazia hanno immaginato di voler sostenere la protesta degli abitanti della Valle di Susa all'interno della Valle di Susa ci sono dati e ci sono tuttora episodi che con la lotta democratica nulla hanno a che venire e questo io ne sono fermamente di questo io ne sono fermamente convinto e gli episodi che sono avvenuti anche all'interno della Valle di Susa sono episodi che ci dicono e ci confermano questo allora se il tema non può essere affrontato unicamente sul piano della riaffermazione di neppure sullo strumento della presenza delle forze di polizia occorre innanzitutto che il confronto riparla ad un altro livello e che ciascuno abbia la consapevolezza che viviamo in un paese nel quale il rispetto il diritto di protestare si deve accogliare con il rispetto delle leggi altrimenti ci portiamo in una posizione sicuramente arretrata detto questo che ripeto io faccio molta fatica a immaginare un legame con il movimento della resistenza perché un conto è male rispetto a quello che ha significato e per me è un significato preziosissimo il movimento della resistenza all'interno della liberazione del nostro paese è un conto e ragionare rispetto invece alla legittima protesta politica nei confronti di un'infrastruttura che però non ha lo stesso livello di discriminio di valore per le sorti del nostro paese su questo io non ne ho e continuo ad averne dubbi di questo tipo posso provare qualche risposta a un soltanto di una anche ad alcune scelte che dietro i numeri ci sia anche una scelta diciamo una visione diversa del futuro che si è evidente però attenzione è un tema un po' delicato perché quando si parla soltanto di una visione del futuro di un futuro di un futuro che ognuno di voi ha in mente si viene spesso accusati di fare dell'ideologia quando si parla di numeri per contestare dei progetti reali si viene a dire che facendo questi numeri in qualche modo si fa un stesso l'ideologia che ho capito nel senso la sua soluzione ma credo che vada trovato l'equilibrio quando si contestano dei dati se sono documentati i dati sono sbagliati non c'è nulla di ideologico in questo è chiaro che l'obiettivo nel contestare alcuni dati piuttosto che non contestare o far finta che siano veri ma nel discorso di Moretti no? beh quella sia una scelta comunque ideologica se farlo non parlo per cui credo che è chiaro c'è del vero quello che dice però il numero sono certo io non volevo intervenire sui dati mi sembra che non ho la sua conoscenza ma la questione di fondo è l'alternativa perché c'è un'analisi che dobbiamo passare alla rotaia anziché alla gomma e che in questo paese carente se su questi due argomenti possiamo convenire il problema è l'alternativa cioè se non facciamo questa cosa che altro facciamo su questo avevo dato già il risultato prima un altro vuol dire un'aggiunta a questa risposta che può dare riferimento a un dato che ha portato prima a rischio quando faceva montare i treni merci che passerebbero nel tunnel poi andrebbero continuerebbero a viaggiare su ferrovie codarsi sulla linea storica fino a Torino è difficile immaginare che 255 treni di 291 merci possano viaggiare sulla linea storica perché il seno è la portata di un tubo nella strozzatura non è la sua sezione più ampia ma il problema si pone subito dopo Torino ad esempio perché da Torino a Milano viaggiano su tre non solo ma il TGV che arriva da avione e se ne va a Milano nel documento governativo è detto che si potrebbe scusa perché devono viaggiare su più no ho sbagliato cosa ho detto perché dopo Torino dovrebbero viaggiare su più no non dovrebbero sento esattamente il contrario forse forse che differenza c'è tra prima e dopo la TGV dopo la TGV improvvisamente la Torino Milano forse scusate ha una capacità di ospitare tra ma perché lo fa adesso non fanno Torino Milano Napoli Roma dando il ma vogliamo aggiungere una cosa non solo le merci non solo le merci dal TGV Milano purtroppo non viaggiano sul ferro di Roma ma lo stesso TGV che arriva da Lione arrivato a Torino passa sulla linea storica non viaggia sulla linea ad alta velocità perché ci sono incompatibilità di normative di sicurezza tra il sistema francese e il sistema interno perché non viaggia non viaggia non viaggia perché non viaggia non viaggia che oggi tra lì Barcellona torino basta per 80 30 quindi quando si dice che si è 20 media bisogna dire che non è possibile vogliamo fare un'esame preciso ognuno ha piccoli ma ecco perché i numeri sono siccome i numeri sono siccome quando si confrontano sono confrontati con un confronto con un ricordo una metodologia che a mio parere avviene quella psicologica che è la specialista di analisi di un palazzo dopodiché lei ha detto io condivido ma non cosa è chiaro prendo atto come dice lei nella sua esposizione per quello mi ha detto se assentendo una contraddizione si metto a studiare ero qui d'accordo prendo atto il problema alla fine è è stato fatto riferimento alle modalità anche diciamo di opposizione io credo che in questi anni ci sono state diverse cose che si sono andate male c'è stata un atteggiamento di intolleranza nella parte di un'unità vantaggio ad esempio nei confronti della Stata gli episodi che ha citato e schiena sono episodi assolutamente negativi da condannare non ho nessuna difficoltà a condannare questi episodi ma di ogni a un operatore del TG3 al quale è stata rotta una telecamera da un notale il movimento notale ha aperto una soddisfazione per ripagare le camere e ha chiesto pubblicamente scusa quindi non è vero che offriamo cooperare a siasi gesto diciamo però il movimento notale in questi anni è stato criminalizzato voi vi ricordate il clima di strategia della tensione che c'era all'indomani della manifestazione di Roma che ha creato così tanto il 15 ottobre che ha creato così tanti danni a tutti i movimenti del nostro paese il giorno una settimana dopo il 23 ottobre c'era era prevista una grande manifestazione che avevamo chiamato di disobbedienza civile gli occhi di tutti gli italiani anche per effetti di ciò che è successo di Roma ovviamente di cui c'era mia massima per dalle totale erano puntati sulla Val di Susa c'era una strategia della tensione palpabile non si contano quante di tempi di pagani stranieri sono venute per cercare l'incidente che cosa sarebbe successo non è successo niente è stata un'azione di massa di disobbedienza civile sono rimasti tutti delusi ma abbiamo raccoltato un risultato hanno avuto la possibilità e al taglio quella iniziativa chiamata DIAVOL CIMITARIO 23 ottobre in cui tutti 15.000 siamo andati anche con le maschere anti-gasse per difenderci dell'acrimogene che non sono stati sparati quella volta anche con le maschere anti-gasse a fare un'azione di disobbedienza civile di massa questa non è violenza è un'azione che è una differenza tra violenza e l'autobbedienza civile ce le trasse così come non è violenza anche la derisione del manifestante che al poliziotto dava della pecora può essere opportuna può essere vuol dire gli aggettivi si possono essere rettanti ma l'uso che si è fatto di questo episodio non è stato forse quello nel criminalizzare quella persona che semplicemente cerca di ragionare cerca di comprendere le nostre ragioni e ha finito con una frase che non è stata mandata in onda comunque ti voglio bene comunque ti voglio bene allora il dato reale è che il movimento rodale è stato criminalizzato e su di esso quando non ci sono ragioni c'è un altro poster che non ho portato ma che dice da una parte fa vedere le grandi manifestazioni popolari di masse pacifiche in cui dice la forza della ragione e sopra ci sono i carabinieri schierati che lanciano i lacrimogini che dice le ragioni della forza ecco credo che questo sia veramente una questione sulla quale dobbiamo uscire non possiamo credo che gli appelli che sono usciti a Ese lo stesso i bruciotti di altri sono stati non possiamo addirittura il problema della questione è una questione di ordine pubblico allora questo credo che sia il problema non era questo in ordine pubblico le comunità locali devono essere ascoltate hanno chiesto un incontro con il presidente napolitano ma perché il presidente napolitano dice che non era cosa che lo riguarda e ha legato questo incontro e quanti incontri hanno chiesto i comuni i sindaci della base credo che ci sia veramente bisogno di ascolto e di confronto ma per arrivare a un confronto vero se non ci sono altri interventi a questo punto della serata non so se vuole aggiungere ancora qualcosa sono problemissimamente su quest'ultimo punto anche per non lasciare nessun tipo di intendente poi non è il tema fondamentale beh io vorrei ricordare che proprio negli ultimi settimane per l'iniziativa del sindaco Farsino del presidente della provincia salita ci è ricomporato e guarda tutti gli amministratori della base di scusa e non solamente agli amministratori che sono favorevoli all'alentazione dell'altra capacità era questa l'iniziativa che porta a tema organizzato quella di un incontro con gli amministratori favorevoli all'altra capacità è stato l'intervento di Farsino e di Saita convince il presidente della regione che non è questo momento nel quale chi ha responsabilità nelle istituzioni debba sollevare ulteriori muri o estecati quindi e mi sembra anche di leggere nei comportamenti e nelle prese di posizione delle ultime settimane più una voia di discussione nel merito piuttosto che un approccio di tipo lo dico con rispetto dogmatico e ideologico il tema della a cui voi hai fatto riferimento del vigneto all'incontro da parte del presidente napolitano io non lo affronterei sul piano di una risposta garbata fatta dal presidente della repubblica perché quell'incontro dal presidente della repubblica è stato chiesto sui giornali due giorni prima e poi formalizzato un giorno dopo non è pensabile che il presidente della repubblica possa essere trascinato all'interno di un contesto di questo tipo vorrei anche che si dia atto di una cosa e qui chiudo non si dia atto intendo sottolineare un'ultima considerazione io sono convinto che dietro questo tema ci sia un ragionamento una riflessione che guarda al modello di sviluppo che dobbiamo costruire per il futuro ed è proprio da qui che sono partito della mia riflessione poi voglio anche riconoscere che sotto profilo tecnico tutti gli errori iniziali pesanti forti che hanno contraddistinto la fase iniziale sono stati superati grazie al lavoro che lo servituale ha fatto che è vero che in alcuni casi non è stato capace di costruire un consenso esteso su tutte le questioni puntuali che riguarda l'organizzazione dell'occhio ma almeno ha conseguito un entrare nel merito di tanti esperti che in una fase iniziale erano stati sicuramente sottovalutati se nessun altro vuole mettere niente altro a questa serata che secondo me è stata molto ricca di punti e di confronto non avevamo la pretesa che voi uscite qua con tutto lo sciglie della Tav e tantomeno che questo confronto chiarissimo perciutto nell'altro vorrebbe essere anche un esempio una provocazione e in questo senso rispondo anche al signore in un vero confronto come quel che viene chiesto anche dagli amici di Lega Ambiente e che noi chiediamo un confronto del merito premmo sull'opera tra i tecnici del movimento della comunità montagna e i tecnici del governo un confronto che no perché se è confronto deve essere un confronto non solo sul come dell'opera non solo un confronto sul come fa l'opera ma anche un confronto su se fa l'opera quello sarebbe il vero confronto ecco quello che abbiamo visto stasera è solamente un esempio di come dovrebbe essere questo confronto che poi chiaramente dovrebbe avere degli arbitri migliori del sottoscritto ma soprattutto delle basi scientifiche su cui da verificare dei dati da vedere e via dicendo questo era un po' il senso della serata e al tempo stesso vengo con lei noi continuiamo come SPAS e come comunità delle SPAS che non termina chiaramente solamente da chi sa da questa parte del tavolo ma con tutti quelli che frequentano questo spazio come parte con una tappa di un percorso alla ricerca che porta avanti una riflessione su quello che immaginiamo sia un futuro modello di sviluppo questo sicuramente è la parte più interessante della discussione in questo senso la cosiddetta della tavola ha sempre un aspetto che da una parte è sicuramente tecnico ma dall'altra parte ha sicuramente delle basi di partenza di discussione che sono ideologiche nel senso positivo del termine i diversi sistemi di valori che si confrontano in questo senso ringrazio tutti è una battuta ma almeno andiamo tutti in salvatore dunque quando è in giro foto mi rifai a me davanti a quella bandiera io ti chiederò che ho molto buono grazie a tutti buona serata alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti